benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di Stampevangelo viviamo in questo momento oggi parleremo di questa vignetta di Staino che sapete era il vignettista dell'unità e adesso improvvisamente da qualche mese è il vignettista di avvenire, proprio avvenire deve dare vita al direttore dell'unità perché Staino era il direttore dell'unità morta anch'essa morta anche l'unità davvero non si capisce in più Staino si mette a disegnare Gesù a mettere in un contesto di attacco alla politica nel caso a Salvini definendo indemoniato colui che vede Salvini quindi insomma col solito parallelo Salvini demonio che ha come coppia famiglia cristiana io mi chiedo ma questa riflessione è sensata ma davvero dobbiamo attaccarci a questi cadaveri insomma non non trovo che sia ragionevole per il mondo cattolico cristiano istituzionale soprattutto per il giornale istituzionale dei vescovi italiani avere come vignettista domenicale l'ex direttore dell'unità che ti raffigura una vignetta oggettivamente che non fa ridere al limite della blasfemia e che poi fa una cortesia a Salvini, ai colleghi, a Marco Tarquinio che dare porto al direttore dell'unità almeno dico Maurizio Crosetti per quel tweet idiota si è scusato ora servirebbe una riga di Marco Tarquinio o dell'avvenire o della CEI addirittura che spieghi che quella roba è roba che non appartiene peraltro alla non ha una valenza un'accezione positiva o negativa è quello che sta accadendo si stanno completamente rivoluzionando gli assetti politici in tutto il mondo. Cosa può accadere? Danilo Lonardi parla all'europeo ci sarà una slavina anti-Unione Europea questo non lo so io voglio verificare perché i numeri mi dicono e sono abbastanza bravo a studiare i numeri che i cosiddetti partiti populisti quelli che noi siamo abituati a identificare attualmente in Lega e Movimento 5 Stelle non hanno in realtà una enorme forza sul piano continentale se voi andate a contare anche volendo fare il risultato più brillante possibile di tutti i populisti nei 28 paesi dell'Unione Europea anzi 27 perché la Gran Bretagna non c'è più vi accorgerete che in realtà i partiti populisti non riescono ad arrivare a 200 parlamentari su 730 eletti delle comprate i voti ma l'Europa in realtà è qualcosa di molto più complesso. L'opzione faticosa che è l'opzione del cristianesimo conservatore chiamiamolo così che in Germania governa è un'opzione che in questo momento è in declino sì perché perde alcuni punti percentuali ma è ancora l'opzione di gran lunga più votata quindi lo scenario reale in cui noi stiamo vivendo in questa fase politica è il declino completo delle sinistre questo è il vero dato che non leggo da nessuna parte la morte della sinistra a livello internazionale non in Italia non in Germania neanche in Europa ma nel mondo la morte delle sinistre tradizionali la morte delle sinistre che negli ultimi anni hanno costruito un blocco identitario attorno ai cosiddetti nuovi diritti guardate questo è elemento importante i portatori del programma politico legato ai cosiddetti nuovi diritti che hanno voluto costituire identità Zapatero, Hollande o lo stesso Obama, la Clinton intorno all'idea che matrimonio omosessuale, aborto, eutanasia, utero in affitto fossero i nuovi paradigmi della libertà sono stati rifiutati, questo è l'elemento centrale, quei partiti che su questi elementi hanno costruito il proprio dato identitario sono stati rifiutati a livello mondiale, questa è la grande... che una volta erano sinistre e popolari con molti milioni di voti a diventare partito radicale senza massa, questo è un elemento di estrema importanza. L'investimento su famiglia, figlia, impresa familiare, questo è un altro elemento che noi sottolineiamo sempre, è l'investimento che assicura il progresso di un paese e non l'investimento in paura a fare figli, paura a costruire famiglia, delegittimazione della famiglia, delegittimazione della donna che realizza la propria... si allacalcherà anche ai Verdi che hanno una piattaforma estremamente più ragionevole rispetto a quella della SPD. Questa grandissima novità, questa enorme novità politica della morte delle sinistre ci consegna una domanda di politica. Dice Dallino Lonardi, attenzione, se non si affrontano reali politiche sociali la protesta monterà. Qui c'è la soluzione che indica il PDF. Vogliamo veramente affrontare il tema attraverso politiche sociali? Investiamo sulla famiglia e sui figli, perché questo è investire sul futuro, è investire su una crescita. Questa è l'indicazione che noi diamo politicamente e valorialmente.